L'assessore all'ambiente Monia Monni ha illustrato al Consiglio gli esiti dell'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse a realizzare impianti di recupero e riciclo, scaduto il 31 marzo scorso. Le proposte arrivate sono state in tutto 39, di cui 32 ritenute rispondenti ai requisiti stabiliti. Come previsto nell'avviso, si aprirà un primo confronto con gli enti locali, le parti sociali, le categorie economiche, gli ordini professionali, le associazioni ambientaliste e la cittadinanza. L'esito confluirà in un report conclusivo del gruppo di lavoro che sarà nuovamente trasmesso all'Aula. Oggi ho reso la terza comunicazione sul piano dei rifiuti. La scelta è stata quella di condividere passo per passo la redazione del piano con il Consiglio regionale che ha la competenza di approvare il piano dei rifiuti che diventa piano dell'economia circolare. Oggi abbiamo raccontato le 39 proposte che sono state avanzate nell'ambito dell'avviso pubblico. L'avviso è stato uno strumento che abbiamo ideato per capire quanto fosse profonda e stesa l'economia circolare sul territorio toscano. Abbiamo scelto di ribaltare la logica muscolare per cui la regione impone e sceglie il tipo di impianti e decide anche dove localizzarlo. Abbiamo chiesto a gestori e territori di avanzare delle proposte. Ne sono state avanzate appunto 39. Si va dall'impianto di recupero dei pannolini all'impianto che recupera maniettali preziosi e terre rare dalle schede telefoniche, all'impianto che recupera la poseidonia, agli impianti più interessanti come dimensioni che vanno a sostituire gli impianti di termovalorizzazione che sono prevalentemente impianti industriali non vocati allo smaltimento ma alla produzione che dai rifiuti raffineranno un gas che darà vita a idrogeno, metanolo o etanolo. Sono additivi per benzine perché per la red 2 le benzine non potranno più essere di origine completamente fossile. L'idrogeno è uno dei vettori principali della transizione energetica e dall'etanolo si faranno polimeri di plastica. Sono impianti industriali che verranno inseriti in contesti industriali e che comunicheranno con quei settori industriali che gli stanno intorno. Si alimenteranno del cascame di calore di altri impianti e cederanno ossigeno o alcuni di questi prodotti che sono prodotti che sanno stare bene sul mercato. Ci sarà una fase intanto di valutazione tecnica perché l'intera proposta sarà sottoposta a valutazione ambientale strategica. Attraverso questo procedimento stabiliremo un tetto massimo di dotazione impiantistica che deve dare risposta ai rifiuti urbani ma anche ai rifiuti dei nostri distretti produttivi perché gli impianti che saranno realizzati devono essere impianti che rispondono ai bisogni toscani e solo toscani di cittadini e imprese toscane. Accanto a questo ovviamente avvieremo una procedura di confronto con chi ha presentato queste proposte che non sono vincolanti né per chi le ha fatte né per noi che le abbiamo ricevute e proveremo a fare sintesi in modo che non ci sia disequilibrio su scala regionale. Ovviamente non sono impianti di smaltimento, sono impianti di produzione, questo cambia molto la logica e ovviamente usciamo dalle dinamiche solite e anche dalle funzioni che strettamente ci attribuisce la legge e ci inoltriamo davvero nel terreno, nel territorio dell'economia circolare. La manifestazione di interesse che era stata pubblicata e al cui risultato avevamo richiesto una nuova comunicazione appunto dell'assessore ha dato un risultato molto importante perché sono circa una quarantina le proposte impiantistiche che sono state fatte. Ora queste proposte andranno valutate molto bene per quanto riguarda la tecnologia utilizzata che noi abbiamo richiesto come consiglio essere una tecnologia affidabile e che prescinde tra l'altro dall'incenerimento. Dobbiamo far sì che questi impianti siano collocati un po' su tutto il territorio della Toscana in maniera tale che si risponda a quel criterio di autosufficienza dei territori e degli ambiti che anche essi noi avevamo chiesti per due motivi perché c'è un bilancio ambientale da rispettare e i rifiuti con più vanno in giro vengono trasportati e più questo bilancio non è ambientalmente sostenibile e l'altro aspetto che dobbiamo evitare che ci sia una Toscana che produce rifiuti e una parte della Toscana invece che li smaltisce. Però le proposte riguardano un po' tutto il territorio. L'altro aspetto che noi abbiamo richiesto e che anche oggi abbiamo rinnovato all'assessore è quello di costruire con i territori con le istituzioni locali il consenso alla realizzazione di questi impianti che comunque vengono dal territorio non sono stati pensati dalla regione in un ufficio e poi trasferiti invece sui territori. Tutto questo fa sperare che il percorso possa proseguire con tutte le difficoltà che non ci sfuggono ma anche con la potenzialità di una buona riuscita perché la Toscana possa avere impianti che chiudono il ciclo dei rifiuti in termini di autosufficienza sia per quanto riguarda quelli derivanti da solidi urbani ma anche per quelli delle aziende, altro aspetto importante che abbiamo noi sollevato e lo si possa fare con impianti anche di nuova generazione. Comunque noi abbiamo detto e riaffermato ciò che oramai l'Europa e le migliori prassi ci dicono da tempo. Dobbiamo spingere sulla raccolta differenziata, dobbiamo evitare che i rifiuti vadano in discarica o perlomeno il segmento più limitato possibile. Dobbiamo far sì che i rifiuti prodotti dalla Toscana in termini di famiglie, in termini di imprese vengono trattati creando una vera e propria industria del rifiuto, quindi del riciclo con la promozione anche di una cultura che dice produrre meno rifiuti, cercare di trattarli con la raccolta differenziata e riutilizzarne il più possibile. La comunicazione della Giunta è esattamente quello che ci aspettavamo. La Giunta non ha deciso. Dopo anni in cui si parla di rifare il piano dei rifiuti si arriva a fare una manifestazione di interessi e quindi chiedere ai privati perché ci si trova con l'acqua alla gola per risolvere un problema. Ma in realtà questo non è un buon procedimento. Non è un buon procedimento a nostro avviso perché così come quando furono definiti gli ambiti territoriali e quindi leato, si tracciò le treato sulla mappa della Toscana senza tener conto né della popolazione né dei rifiuti prodotti. E anche in questo caso facendo questa manifestazione interessi, cioè chiedendo ai privati se sono interessati a gestire degli impianti di rifiuti e dove, è chiaro che si viene meno a valutare correttamente che cosa serve in Toscana. E questo è esattamente il quadro di quello che emerge oggi da questa manifestazione di interessi. Sono 39 impianti individuati, su cui chiaramente ci dovrà essere tutta una procedura, non sono sicuramente quelli definiti, però sicuramente fanno capire la disomogeneità che c'è tra la popolazione e gli impianti e soprattutto dove vengono prodotti. Addirittura vediamo che ci sono sei impianti nella provincia di Livorno e nell'area più popolosa della Toscana forse ce ne sono due barra tre. Quindi questo modo di procedere noi non l'abbiamo capito. Noi abbiamo sempre detto che la legge 69, che è quella che regola il piano dei rifiuti, andava rivista in toto e quindi siamo dell'idea che questo percorso, che non sappiamo quanto durerà, perché anche la fase transitoria è importante, perché questo elemento oggi ci fa fare poca differenziata perché è quello che stiamo facendo. Abbiamo la seconda tariffa più alta d'Italia, ma soprattutto esportiamo i nostri rifiuti anche fuori regione e all'estero. Pensate che noi esportiamo quattro tonnellate e mezzo di rifiuti organici in Olanda, paghiamo l'Olanda e l'Olanda cosa fa con quei rifiuti? Ci fa energia. Quindi noi dobbiamo forse cambiare rotta e renderci conto veramente in che mondo viviamo, perché anche a livello ambiente in generale in Toscana, non solo sui rifiuti, ma anche sull'area e sull'acqua, qualche problema credo che lo abbiamo e soprattutto dobbiamo pensare non solo alle tariffe, non solo agli impianti, ma anche alla salute dei cittadini. Avevamo già denunciato lo scorso febbraio che fare una discussione in assenza dell'esito del bando che si è chiuso il 31 marzo dopo due proroghe avrebbe avuto poco significato. Ci dissero che sbagliavamo, ma oggi l'assessore torna a darci resoconto, non troppo dettagliato, di quel bando che ha visto la presentazione di ben 39 progetti, che significa evidentemente che in Toscana c'è voglia, ma soprattutto c'è bisogno di impianti, perché le tariffe stanno toccando livelli altissimi, i comparti produttivi sono in difficoltà, i cittadini non riescono più a star dietro agli aumenti dell'Atari. Purtroppo, soprattutto chi ci rimette di più, sono le nuove generazioni, perché continuiamo in Toscana a sotterrare ben il 34% dei rifiuti in discarica, perché questa sinistra non è stata in grado di dare alla regione, una delle regioni più importanti del mondo, un piano dei rifiuti degno di questo nome. E non c'è nemmeno oggi il termine, cioè il tempo, entro il quale i nuovi impianti della cosiddetta economia circolare saranno pronti. La valutazione del piano è negativa, perché è un piano che demanda ai privati le iniziative che dovrebbe prendere la regione, soprattutto nell'idea di un riciclo e un riuso della materia, ma soprattutto si parte da una concezione ormai vecchia, che è quello che tratta i rifiuti a valle, quando a nostro avviso dovremmo pensare a produrre meno rifiuti. Fermo restando che di tutte le proposte arrivate, la gran parte sono impianti di trattamento fondati su concezioni che in pratica sono degli inceneritori mascherati, mi riferisco ai gasificatori, i pirulizzatori che comunque hanno emissioni di sostanze nocive e ricordo a tutti che l'Italia in questi giorni è stata multata dalla Corte di Giustizia Europea proprio per la cattiva qualità dell'aria. Ma e te la via dà un giudizio molto positivo dell'operato della Giunta, dell'assessore Monni, perché in questo momento è un confronto trasparente che mette in campo le proposte di molte aziende, sono 17 quelle che si sono fatte vive con trasparenza, 39 progetti, noi chiedevamo trasparenza a livello di condivisione delle pregettualità che emergono in Toscana, auspichiamo che il piano dell'economia circolare non sia più un piano di rifiuti ma nel contempo diventa un piano industriale dell'energia toscana, un progetto che possa produrre innovazione, vantaggi per i cittadini toscani, vantaggi per le imprese, possa ridurre le tariffe dove a livello regionale ci sia un'unica grande cabina di regia e dove la trasparenza, la partecipazione e il Consiglio regionale siano protagonisti delle scelte insieme alle comunità locali, insieme alle associazioni, insieme alle imprese, un disegno nuovo di una Toscana che cambia ma che nel contempo vuole essere green ma che crea occupazione e lavoro partendo da quello che ha al proprio interno, quindi i propri rifiuti che diventano a quel punto riutilizzati, non più un problema ma una risorsa. Questa è una comunicazione di sole sei pagine dove sostanzialmente descrivono in maniera sintetica queste 39 proposte, questi 39 progetti che imprese private hanno manifestato di voler costruire in regione toscana. Siamo ancora lontani da una definizione completa di quello che sarà il futuro della gestione dei rifiuti nella nostra regione, una gestione dei rifiuti che naturalmente sconta, e questo l'ha detto anche l'assessore chiaramente, un gap infrastrutturale che è frutto di mancate scelte di decenni e che oggi attraverso una procedura che è anomala si cerca di colmare ed è anomala perché anziché partire da un dato che è quello dei fabbisogni territoriali e quindi di capire esattamente all'interno dei singoli territori qual è la capacità e quindi la necessità di smaltire, oggi si parte da una logica diversa, si chiede agli investitori sostanzialmente di risolvere il problema. Ecco, questo è un percorso che ad oggi è stato gestito sostanzialmente dalla Giunta, oggi noi invece crediamo che questo confronto e questo approfondimento debba ritornare al Consiglio, debba ritornare oggetto di approfondimenti nelle commissioni consigliari, soprattutto perché è indispensabile un coinvolgimento dei territori. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, torna la Maggiolata, la festa popolare che rende omaggio alla primavera e ai fiori, che si svolge nel borgo medievale di Lucignano. Un'ottantatreesima edizione nel segno della tradizione e della contemporaneità, con la sfilata di carri allegorici completamente fioriti dei quattro rioni, ispirati alle opere di Jeff Koons, scultore statunitense emblema del fenomeno neopop dell'arte contemporanea degli anni 80 e 90. Gli appuntamenti saranno 4, domenica 22 maggio, martedì 24 in notturna, domenica 29 e il gran finale mercoledì 1 giugno di nuovo in notturna. La Maggiolata Lucignanese è uno degli eventi, l'evento della Val di Chiana, in uno dei bordi più belli della nostra Toscana. Si incontra la voglia di far festa, il saper utilizzare i fiori, l'artigianalità e la manualità di tante donne, di tanti uomini che provano a far sorridere gli altri. È un evento bello, così bello che consiglio in questi giorni ai cittadini della Toscana di andare, di conoscere i nostri borghi, di andare a conoscere le nostre tradizioni e tutto questo avviene tra tradizione e contemporaneità, la contemporaneità di chi vuole vivere con speranza e ottimismo verso il futuro. Grande attesa perché la ripartenza della nostra Maggiolata dopo due anni di stop, il primo evento comunque che riparte di quelli davvero grandi, quindi l'attesa è tanta e siamo emozionati perché comunque già tornare a vedere le bandiere, a sentire l'aria di festa è veramente bello. Quindi il 22 maggio, il 24 in notturna, il 29 maggio durante l'intera giornata da domenica e la chiusura, il primo giugno, torneranno a sfilare i carri, i nostri bellissimi carri fioriti per le vie del Borgo, uno dei borghi più belli d'Italia e questo allieterà la gioia di tanti. E vorremmo mandare anche un messaggio di speranza perché comunque in questo momento abbiamo bisogno anche di bei messaggi, quindi la tradizione e il futuro, questo è quello che abbiamo voluto inserire, la contemporaneità e la tradizione per poter tramandare anche all'esterno un messaggio davvero grande di pace, responsabilità e serenità. Con le persone, con il pubblico, con i tanti volontari che stanno facendo questi carri, con la voglia di fare esplodere di colore un borgo che è già bello di suo ma che diventa in questi giorni davvero meraviglioso. Migliaia di fiori, tantissime persone che sacrificano il proprio tempo per rendere Lucignano ancora più bello, un grazie a loro, all'amministrazione comunale, a tutti quelli che provano a fare un servizio alla propria comunità, in questo caso lo fanno non solo a Lucignano e alla provincia di Arezzo ma a tutta la Toscana che risplenderà e sarà riflessa in quei fiori dai colori meravigliosi. Questa è una festa che ormai, diciamo così, tra pochi anni festeggiamo il centennario, quindi crediamo di poter dare un contributo notevole con questa festa a tutta la nostra zona della Valdichiana dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico e anche rievocativo del passato. Quindi noi ce la mettiamo tutta, le Contrade, l'Associazione Maggiolata e ora a questo punto con un contributo notevole anche dal punto di vista delle istituzioni. Sì, sicuramente questo è un momento particolare per tutti, per tutta la comunità e quindi richiama al lavoro in questo caso perché c'è del lavoro da fare per creare le nostre opere d'arte perché tra l'altro quest'anno faremo delle nostre opere d'arte in omaggio ad altre opere d'arte del nostro famoso artista Jeff Koons. Quest'anno è una manifestazione speciale perché è quella della ripartenza dopo due anni di stop e quindi pensiamo davvero che possiamo quest'anno più di sempre pensare a rifiorire, a rinascere, a ridare un'opportunità di divertimento, di musica e di buona gastronomia. Quindi l'invito è veramente a vedere questa manifestazione, questa Maggiolata che è veramente una perla e che quando uno l'ha vista ne rimane contagiato e tornerà anche nei prossimi anni. Quindi veramente grazie ai volontari e andate a vedere la Maggiolata.